Salve a tutti, buon zita, combattimento. Oggi siamo su Minecraft, come vedete, eh, questo qua, e volevo fare un video. E questo video parlerà di Minecraft e soprattutto di sto personaggio chi? Qua, eh? Ve lo ricordate, no? Comunque, prima di inoltrarmi nella trama del mio malefico pensamento, vi volevo dire che siamo nella versione 19.9a, cioè quella che aggiunge i notblock nuovi, che io non vi farò vedere perché non so far neanche quelli normali e voi sarete contentissimi di questa cosa. Però è una versione che aggiunge pure la nebbia, non è vero, aggiunge pure tipo un modo per far uscire il mercante pazzo che ogni tanto arriva, e si porta appresso sti lami, che non è il plurale di lama, l'ho inventato io. Quindi io vedendo tutti sti lamas in questa villaggia, ho pensato che, boh, fosse arrivato quel tizio. Prima pensavo che ci fosse stata solo un'invasione di lamas. Però, a sto punto direi che è stato il tizio, oh, il tizio è venuto tante volte e ci sono stati tanti lami in giro. Poi, inoltre, è una cosa bellissima che vi faccio vedere prima dentro casa e poi da un altro posto, te l'ho notata, i bug con le luci. Perché, ma voi qua vedete che è tutto illuminato, tutto simpatico? Sì, perché sono venuto, ho tolto le torce e le ho rimesse con calma. Qua è già più scuro perché tipo qua non l'ho fatto, mi pare, vè? Questa torcia malefica. Ah, l'inventario non ce l'ho perché l'ultima volta sono andato a FK, cioè, là fuori è diventato notte e mi hanno schiattato di botte. Però come vedete, tipo qua, è buio che non dovrebbe essere, stanno le torce. Soprattutto qua è buiissimo e non dovrebbe essere perché c'è questa torcia e qua è luminoso. Non si spiega il perché qua sia luminoso e di qua no, però vabbè, basta togliere la torcia e rimetterla e si illumina tutto come prima. Oppure mettete solo un'altra e la togliete e rimane illuminato. Poi, 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 ah sì, ah vabbè, qua ovviamente è buiissimo. Tutta la via in porta qua, qua pure era scuro come la notte più profonda e era impossibile vedere. Contanto non ci sta pure il fuoco, qua ovviamente. E poi ho visto prima mentre venivamo di qua che se guardiamo dentro la miniera, il buio più profonda, un tunnel di quelli impossibili. Ah, poi là giù è luminoso, è solo qua. Cioè, un aggiornamento che, come sempre, su Minecraft portano dei... delle nuove aggiunte simpatiche e la distruzione del mondo, a quanto pare. Però, 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 però. No, 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 non dovevamo parlare di queste cose, questo è solo un mio appunto personale didattico. Solo per farvi capire che magari se la stata usa pure voi e vi trovate in queste stesse condizioni, non banicate, è normale, Mavino Bones salva la situazione. Ok, comunque, stiamo a parlare di Mavino Bones. Perché? Perché tutte le volte in cui si è... Eh, che sto fa un... eh. Tutte le volte in cui si è duplicato, sdoppiato, sduplicato, quintuplicato, o tutto quello che gli è successo, a me è venuta la malefica pensata di far accoppiare Mavino Bones con il suo clone. Però ogni volta che lo volevo fare, non potevo più perché spariva e mi veniva sempre in mente tardi. Quindi, ho deciso, cioè, ufficialmente, che oggi andiamo a trovare la fidanzata di Mavino Bones, ce la veniamo a portare, eh? Vuoi la fidanzata, tu? Sì, vedi, sta dirisi con la testa. Ok. Quindi, gambe e spalla, spalla in gamba, e andiamo a cercare una bella ragazza... Eh, andiamo a cercare una bella ragazza, perché Mavino Bonzo è di buoni gusti. Signorina vuole essere al cavallo? No, questo è un signore. È un maialo. Poi, i lami non si possono accoppiare con i cavalli, perché sennò uscirebbe un coso brutto. E basta, brutto. Perché i lami sono brutti, diciamocelo. I lami sono brutti. Eh? Comunque, mo' mi metto a cercare un po'... Un vagallo, magari. Eh, che cos'è là? Il cielo, la pecora che si mangia al cielo. La gallina, vabbè. Eh! Eh! Quando... Quando questo gioco fa i capricci, che ci fa vedere tutto il sottosuolo. Ogni tanto con gli aggiornamenti succedono anche queste cose. Che invece ti carica il mondo, ti carica una scacchiera. Quello che vedi, vedi. Quello che non vedi, non lo vedrai mai. Tipo qua, ovviamente, abbiamo il mondo affossato e là stanno i ragni, se vi interessa. Vediamo un po'... Ah, queste sono le capanelle dove pensavamo ci stessero rubate le nostre ricchezze. E invece niente. Il monologale triste, lol. Ah, poi qua vedo una torre nuova che non c'era prima, mi sa, eh. Cioè, è tanto che non passi in queste zone, perché sono zone sporche. Do... Do nascondono i diamanti. Eh... Cosa brutta. E poi a noi non ci servono queste cose. Ma ci servono i cavalli. Qua ci stanno i ragni. I ragni non sono cavalli. Mi dispiace. Mi porto la sella nell'inventario, ovviamente. Mi sono rifatto l'armatura. Eh... Ovviamente... L'avevo rifatta in diversi tentativi di registrare sto video. Che però... Sono finiti tutti malissimo, perché una volta i OBS, che sarebbe il programma che uso per registrare, mi ha registrato solo una schermata. Cioè, mi ha registrato il mio inventario. E tutto il video sotto andava, cioè la voce si sentiva. Però restava fermo quella schermata. Quindi, se mai vorrete una schermata di me che non faccio nulla, vi carico quel video simpatico dove non faccio nulla. Mi sono fatto l'armatura. Ah, sì, ero andato un attimo a controllare pure casa di Alex e Giorgio, che a quanto pare dentro viene invassa dai mostri. E ho fatto scoppiare un paio di creeper. Che poi ho sistemato, eh. Perché io sistemo sempre le esplosioni. Non faccio come i vandali. Eh. L'ho provocato per sbaglio e l'ho sistemato per volere. Perché sono una brava persona con la Z. Aspetta, fammi controllare. Qua pure avevamo controllato se ci fossero stati derubamenti e qua mi sono rubato la pala. Cioè, ho preso in accordo di risarcimento la pala. Eh. Devo avere un'assicurazione pure io. Vabbè, questo è il forte di Alex e Giorgio. Ovviamente, sempre più grosso. Si vengono sempre più spazio. Prima o poi, arriveranno a casa mia e inizieranno a bussare e direi scusa, dobbiamo fare il nostro muro. Io ci dico no, Alex e Giorgio. Non lo farete il vostro muro. Ok? I muri dividono le persone. A parte il mio. Il mio è un muro d'amicizia. Questo non è un muro d'amicizia. Guarda quanto è alto. Poi è brutto. Un muro blando. Storto. Storto. Non mi piace. Poi. Che sta a fare? Ah, sì. A cercare i cavalli. Sono andato di là l'altra volta. Per questo. sto avvitando e vado di qua perché grida in casa. Ok, va benissimo. Questo è quando vi vede che ho 40 milioni. Non posso sto a fare un video! È stato divertentissimo fare questa cosa. Ciao. La pizza? Ma ho messo fuori la ciccia. No, salto. Vabbè, dopo scendo. Finisco qui. Disturbatori per vedere se voglio la pizza. Non lo so. La pizza me la sono mangiata l'altra volta. Mo devo pensare se voglio la pizza. Ah, ma questi hanno le pecorelle. Come cambio facilmente idea. Ciao, pecorelle. Secondo voi dovrei prendere la pizza? Le pecorelle dicono forse. Ci penserò, ci penserò. Ah, aspetta. Ma già che stiamo qua, scusa me. Ma perché cercarlo, il cavallo? Quando ce l'abbiamo a portata di mano. E lo possiamo andarcelo a prendercelo da questi signori simpatici? Che, ovviamente, mi sono perso un'altra volta fuori da sta casa perché eh, ve possino Alex e Giorgio ve possino. Ma il muro è solo da una parte. Ah, no, sono entrato. Ci prendiamo in prestito, ovviamente, sempre permettendo che Minecraft ci carica il mondo, eh. Ci prendiamo in prestito un cavallino, eh. E ce lo mettiamo a casa per un po' per fare da mamma e da fidanzata a Mavino Bones. Si può scendere qua? Ma sì, che si può scendere con molta calma, tranquillità. Piano piano, eccomi qua. Lala. Pure qua, ovviamente, bug visivi, luminosi. che non so se poi comportano problemi. Sì, stanno gli zombie, stanno i mostri. Ma che siete pazzi? Ma guarda tu! Ma qua è pieno di roba! Non so se vi sarà possibile vedere, ma è pieno di mostri là sotto. No, vabbè, devo avvisare sti giovanotti che si devono sistemare la casa perché se no, scusate, eh. Scegliamo un cavallo intanto. questo che c'ha l'armatura d'oro sembra più importante. Ve lo riporto, eh. Comunque devo avvisare perché se qua veramente si combinano ste cose quando si bugga la luce è un dramma tattico e bisogna porre rimedio perché se no ci ritroviamo tutti la casa piena di mostri. Comunque, se andiamo a cavallo mi sa che ci mettiamo un po' più velocità per arrivare. Quindi il mondo carica di meno. Quindi io arrivo a casa col cavallo e vi riprendo il video e non lo faccio solo perché non so come si fa nasce i cavallini, eh. Non lo cercherò mica su Google a tra poco. Ok, ciao. Sono tornato e per farvi capire quanto tempo ci ho messo è stato abbastanza il tempo per George di venire davanti a casa dentro entra a mettermi il cartellino andarsene e fa le sue magagne perché lui è una persona divertente Comunque non si è accorto io ho fregato il cavallo però va bene ora oltre al menù della pizza ho sfogliato pure il come si dice il metodo per avere un cavallino e ci vogliono o le mele o le carotte d'or noi le mele non ce le abbiamo ma loro si ora non mi ricordo se si fa con i lingotti o con le cose con le lenticchie le zazzicchie quindi noi ci prendiamo dove ce l'ho le carote le carote non le raccolgo mai sono proprio un maleducato solo perché sono buone fanno bene a tante cose la vitamina C B12 B18 mi raccomando hanno cambiato il suono di quando pianti le carote ma fanno chaff un misto tra terra bagnata e schifo comunque adesso abbiamo le nostre carote no mi seguite che qua è difficile dobbiamo fare le carote d'oro che secondo me non si fanno con i blocchi ma con i lingotti ma vediamo un po' infatti si fanno con i nuggets la e ho detto lingotti cioè ho detto i lingotti non i blocchi perché sono stupido facciamo due carote d'oro che con queste ci si fanno pure le pozioni dell'invisibilità eh state attenti e adesso andiamo dai nostri eh metto a posto la cuffia che mi si è scoperta l'orecchia dai nostri bacalli salve ci abbiamo tutti vicini perché la guida di minecraft diceva mi raccomando non devono scappare ci diamo a uno una carota a uno un'altra carota e mo fanno a botte si avvicinano è nato un cavallino è nato un cavallino che questo non si chiama ancora ancora non si chiama lui è vero non ti chiami si non si chiama visto che non possiamo scegliere il nome della mamma visto che non è il nostro cavallo voi voi mi raccomando stavolta un bel nome non che ma vine bones non sia un bel nome perché questo è un bravo cavallo è molto bravo si comporta sempre bene è vero lui è tanto bravo scegliete un nome simpatico questo sgorbio cavallino qua che abbiamo che sta su questa balla di fiena perché lui è molto carino lui è molto simpatico vero ok basta quindi sceglietemi un nome bello ovviamente stesso metodo dell'altra volta se l'avete pensato pure voi mettete like al commento se già ci sta non lo scrivete mille volte se no vi scrivo mille volte ciao però ciao in modo offensivo volevo però saltare la sua non so perché comunque prima che mi ammazzo a furia di salta solo glowstone ci vediamo al prossimo episodio della best serie ever bella ciao